Siamo a Studio 83, azienda di serigrafia di Pesaro che in questo fine 2022 compie 50 anni, un compleanno speciale a cifra tonda che il titolare Arnaldo Piovaticci ha deciso di infiocchettare con un premio speciale, quello di 1000 euro a ogni dipendente. Che dire, a Natale si è tutti più buoni, in questo caso un'azienda buonissima? Guardi, io non era tanto i 1000 euro, era solo il pensiero di dare questo premio a questi operai perché sono gente che sono validi, sono bravi, quindi meritava proprio di cuore questo omaggio che abbiamo fatto e che siamo contenti di aver dato. Tra l'altro anche loro, ci hanno fatto un regalo anche loro, è stata una festa che è stata sentita da tutti e quindi siamo molto contenti di questa cosa. Ricordiamo anche chi è Studio 83? Allora, Studio 83 nasce nel 72 e tutti pensano che l'83 sia l'anno di partenza, ma in realtà l'anno di avvio del lavoro è stato nel 72, nel 1972. Abbiamo cambiato 3-4 sedi, adesso siamo in questa nostra sede che ci rappresenta un po' anche per il tipo di attività che facciamo, abbiamo bisogno di spazi, quindi diciamo che qui siamo strutturati bene. La storia è quella di essere partiti da zero, completamente da zero, a 20 anni e ci ritroviamo adesso ad averne più di 70. Abbiamo i figli dentro che ci porteranno avanti in questa azienda e quindi siamo contenti di questa cosa, di lasciare almeno un segno a queste persone e qualcosa abbiamo fatto. Ci siamo arrivati qua, il merito anche di mia moglie che mi ha supportato in questi anni, quindi voglio dire che nel lavoro sicuramente è stato importante avere una figura vicino che ti sprona a fare queste cose. La storia è la storia è la storia. La storia è la storia è la storia.